oh ragazzi carino ma andiamo veramente a controllare il robottone è finito? no ma lo pilotiamo pittaviro no mi sento male oh mio dio mi sento male se pilotiamo sta roba no il pazzisco ragazzi guardate no il pazzi l'ambiente ragazzi guardate non guardate dove ci troviamo guardate ragazza lì salite e poi c'è la vicella piccolino che sono i ragazzi no ragazzi è un mini che bello che sta sparando con me ragà ma è questo è il nuovo sistema ragazzi c'è un problema non mi vale i massi alla chi ma ragazzi perché sta cosa spettacolare scusatemi come come si fa guarda è passato a quei numeri ah perché così proviamo le varie armi e la madonna questo coso no ragazzi spariamo veramente questa cosa è devastante per 40 minuti che cazzo dobbiamo fare e stiamo qua c'è là per 40 minuti che cazzo vuoi armare dai via qualcuno fatta da un abbraccio tieni se bambino speciale mi ha senti la roba in stile robo gunda pacific rim cioè quindi stiamo impattati no ragazzi ragazzi cambiamo stammattino dritto su tilt scusami ma non riesco a tirerla per più di un mese io mi trasformo tanto ora non devo sta ancora in divisa quando devo sta in divisa capito quando inizia sta finanziere eccomi qui avete la droga ma se vuoi è bello nessuno penserebbe che noi dobbiamo salvare il mondo qua ma tu dice dobbiamo salvare il mondo cioè ma io la domanda che mi faccio stanno mandando sto meca enorme per combattere dei soldati a piedi ma io lo dico domani ritorna il bruto mettono l'infantry rifle mettono il combat torna lo spas torna lo scar con l'M4 e in più mettono il cover movement di Gears of War quello che se tu premi un tasto ti schiaccia il muro no Mike Mike tutto questo piano di distruzione noi amiamo gli alieni è pronta tutto per vincere ma non è un mostro lo dici non ha mai comandato davvero e chiede aspetta però qui fai bagnato qui diciamo quindi vediamo il cattivo è sempre stato Geno quindi Geno il cattivo l'avevo detto che saremo arrivati da Geno perciò non c'è di che no secondo me dai per forza dai scusatemi quindi Geno è il cattivo alla fine sembra di sì è l'ultimo dei sette che ha tradito è sì è l'ultimo dei sette dai no 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 non è questa fermi non è questa la scoperta dell'ordine immaginario prepari non è un po' ma davvero possono prepararsi quanto di mare non c'è scampo da quello che accade scusami che sa per chi è regalo scusate ragazzi oh oh aspetta 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 mi metto un tutta mi metto un tutta aspetta divisa da lavoro ho le potere dei finanzieri tu che mi sembri il tizio che coltiva qualcosa non mi lascia a casa vecchia quella roba tu arrivi o pronti salire a tutti i piloti così tu entri arrivi dentro se trovi questi questo è pulisce ragazzi penso che fosse finita ma dobbiamo lavorare qua avete finito di pulire cioè dobbiamo abbiamo qualcosa da fare quasi finito qua abbiamo cosa ti può aspettare la porta di questo momento signor Giorgio Giorgio la fornette è sempre stato un gioco che è rimasto sempre rivoluzione ma che cazzo ne so ma non lo so voglio solo giocare con il robottone spaccare la faccia alle persone e qui signori è tutto a voi la linea oh si scusate 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 ora che ha mancano 5 minuti indossato da lavoro vai un potere della figa ragazzi queste sono le mie vittorie in 4 anni ok e insomma aspetta in che senso attraversare più zero aspetta ha detto attraversiamo attraversare il campo rinforzato la tua per attraversare il punto zero eh che ha detto Raffaella Carrasa attivato bello questo oh oh per favore Google per favore 21 adesso ragazzi un momento di silenzio Alexa metti despacito e Google metti despacito ehi Siri metti despacito si son chiusi il cuore il cuore il cuore il cuore ragazzi 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 allagato la gata o allagato un crasha ragazzi secondo me parte il ragzo dai che manca poco dice prima parte il ragzo ci apri il rift il ragzo ma non è che il mecca si butta dentro a me il meccano il razzo ci apri il rift e noi ok torna al tavolo o di 7 hanno intercettato le comunicazioni di geno per la dottoressa sloan crediamo che il sistema d'armamento dell'ordine raggiungerà la massa critica prima del previsto se non lo fermiamo subito distruggerà ogni forma di vita su quattro a guidare la missione avremo il miglior capitano di mecca di tutte le realtà paradigma paradigma ma non c'è questa scuola ce l'ho io la scuola il nostro obiettivo squadra di terra rapporto squadra in stand by abbatteremo gli scudi per quanto a lasciare queste mani o c'è lo sca è fatto la legge per me no rotuffo preparazioni alla sequenza no ma come la volevo pilotare io figlio potrei chiestarsi di 30 secondi manca poco i mani c'entra la ragazza viola vedete qua fuori vogliate qua fuori ma che è un'area spettacolare eva 0 1 pronto per il decollo ma io vado a prima vado a capo ma il posto virgo il momento che spettacolo è va bene ma è bellissimo ma avete visto che la freccia andava su un pianeta più piccolo di quello da dove partire guarda quanto il 31 quello del futuro 0 ragazzi 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 dobbiamo aprirci un passaggio ragazzi con i grossi quelli grossi no non si può distruggere quelli grossi non facciamo come dice mamma prendete con i circonferenza 31 allora interagio ragazzi ma no era la strada vecchia urco ma che sta roba ma è devastante regalo corretto cosa sono queste linee no ragazzi no ragazzi no ragazzi ma è devastante sarò bottiglio prepariamoci no ragazzi io cerco le mezze aiuto è pazzesco è bellissimo oh guarda la cinematica siamo arrivati guarda la scena ma no ma così arriva di testa ma che cazzo fa vabbè vabbè one punch man con due no ragazzi no questo è one punch man è preciso devastante sta bellissimo libera e basta i non saranno un problema non appena capiremo come ci pensiamo noi spaccavuto mi struggete tutto caro guardi a sinistra anche in questa modalità non devo farci nulla non sto sparando vabbè ma che è sta roba sfatola vorrei si spara a sinistra a sinistra si guarda un sparò EH Dove siete dove siete a trivella schiacciava Gipsy danger di pacific rimasta roba Ma come io non li vedo manchi i missili invece si eccolo Ragazzi dentro è pieno un razzo razzo fatto Adesso ragazzi cos'è qualcuno può Quanti ragazzi stanno avendo no 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 oh madonna cosa c'è la dino è Ma rega io sparò a rega io sparerà Ok Mi ricevi un bel eroe ci hanno battuti tutti si Abbiamo un bel eroe non andremo lontano il brutto Il brutto amico cosa capitano Ma cosa Ma il banana Che malattia questa roba è proprio me Si bevi la red bull No ragazzi dai Scaccio caccio E' bellissimo Così Così La raga concentrati ora Andiamo Uccidete bruti L'acceleratore si sta carizzando presto Ah da quello mi è collegato Ahia però i ragazzi sto sparando i costi a terra Intrudevano morire Fan culo ma fan culo fruto Fan culo beh Ma ragazzi mi voglio Ma oh ragazzi Ma prendiamo di nuovo il cazzo Raga tutti morti Abbiamo eliminato gli sputi L'acceleratore ha dato Oh guardate Oh sta sparando l'ultimo Sta sparando Ma è nuova questa Ma che è stata amarrata Ma fan culo beh Io penso ai dirigiti Camminari non so più Di finocca E chi le chivisten E abbiamo Oh porco Eeeh Trevati Strana Anzi Nessuna pietà Tu ti devi levare Hai capito Le forze nemiche sono state eliminate Questa è la nostra sh Palestine E'va poco La strappa La strappa La strappa Ragazzi Badoken Mode Skit него Skit 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 Oh O Senora Ragazzi No Posso No Ecco Ecco Estado Bride Tai Ragazzi siamo morti qualcosa doveva andare storto Got up question Ma siamo fini Nellaıyla ma sixteen gens crollate vedi stava scavando che alien non sembra contenta di vederci quindi meglio scivola non escono i più per uno scar no ragazzi marichiamo 4 e cura i tuoi amici arriviamo all'anno cambiato e di vero marica ma è cambiato tantissimo oddio è vero sembra il lancer non il lancer bravissimo quell'altra arma cristalli in cina l'acceleratore la mia vita di tutto la riozzo zero mostro al muovere rompi tutta la nostra nuova realtà mi sembra giusto andiamo con la staspera del sunno dentro comunque si è identico merda è sì raga è vero identica l'arma di guarda che secondo me lo mettono veramente quella cosa è troppo la chiave c'è un chiaro armato rega rega stanno per il sarrobo quante volte manchillato le due ultime parole jones occhio ragazzi dai a vi prego sempre si dava sulla mano portaci su c'è il punto 0 e non c'è cattiva e questa è la nostra occasione per tovarlo noi voglio vedere lo spai sopra rega di carli come stiamo non 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 l'ultimo devo caricare e volevi vado oh ci sta guardando guardatelo ci penso io si va bene ma che è sta roba ragazzi ma volevo andare là dentro un shift bellissimo non amo e no noi non ci siamo con loro sono loro due no e finisce così e invece finisce così questo è in assoluto il migliore evento che abbiano mai fatto bello ragazzi però guardare sti funghi e sta musica chill bello però bello lo sai ragazzi oh guarda tutto a tempo ma io sto muovendo le spalle ma comunque vedo l'acqua a me sembra proprio diverso le cose tipo il verde la flor bello il motore arriva comunque bisogna di una cosa cioè questo è proprio l'evento più bello che abbiano mai fatto cioè proprio non sei è bello molto molto bello ma quelli che vuol dire domani ciò dobbiamo aspettare domani 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 e domani si sta qua dalle sei del mattino ragazzi è crashato ragazzi cambiamento di stato connessione è crashato twitch ora se domattina tra mezzogiorno e luna voi giocare domani io domani io conta mezzogiorno mi collego ho il tempo di mangiare stream farmi la pace giochiamo